Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, la trasmissione in onda sui canali di Blog Sicilia. Abbiamo da poco festeggiato il primo dell'anno, il 31 dicembre a mezzanotte, anche prima veramente a Palermo, diciamo già dal pomeriggio, i fuochi d'artificio, i botti hanno caratterizzato la giornata. Per molti è un momento di festa, un momento di allegria, per qualcuno invece questo è un giorno che resterà indimenticabile per la vita. Ne parleremo oggi con Adriana Cordova, che è primario del Policlinico, del reparto di chirurgia plastica e ci racconterà appunto tantissime cose, parleremo anche di questo reparto che è assolutamente importante e punto di riferimento nell'Italia del Sud o anche in Italia e quindi ce lo spiegherà lei. Noi la ringraziamo di essere qui ospite con noi. E allora cominciamo a parlare proprio di questa giornata del primo gennaio 2023. Per un ragazzino di carini purtroppo questo giorno sarà indimenticabile, anche per i genitori ovviamente. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie dell'invito perché affrontiamo un tema che è importante, che è quello della prevenzione. Noi eravamo abbastanza contenti perché la notte del 31 è passata abbastanza tranquilla. Si indenne, direi una notte tranquilla. Però purtroppo la giornata di Capodanno è stata avvelenata da questo tristissimo incidente. Un ragazzo di 12 anni che la madre era riuscita a trattenere durante la mezzanotte, invece l'indomani ha trovato una di queste bombette, credo che si chiami di cipolla. Inesplosa a terra, l'ha presa con la mano sinistra e ha pensato di darci fuoco con la destra. Da qui la mano completamente spappolata, ma dico letteralmente spappolata. Il ragazzo è stato portato dapprima all'ospedale Cervello e poi trasferito al nostro centro di riferimento di chirurgia della mano, che è presso l'unità operativa di chirurgia plastica. Al Policlinico di Palermo. Ogni tanto parliamo delle eccellenze, non solo di mala sanità, ma delle eccellenze della nostra terra che ci sono. Sì, devo dire con un poco di… detto da me, però è la verità. Noi siamo l'unico centro a sud, diciamo, nell'Italia meridionale, insieme a Bari, siamo l'unico centro di riferimento per le urgenze di microchirurgia degli arti, che si chiamano Centro Cumi. Il nostro, oltre a essere centro Cumi, è anche riconosciuto dalla Federazione Europea FESH. Questi riconoscimenti vengono dati insieme, diciamo, dimostrando una serie di caratteristiche, cioè numero di riempianti in un anno, numero di interventi di alta chirurgia della mano in un anno, presenza di medici, professionisti che hanno il bordo europeo di chirurgia della mano, noi abbiamo due professionisti che hanno il bordo europeo, ne basta uno per avere l'accreditamento, noi ne abbiamo due, il dottore Pugliese che ha partecipato all'intervento e la professoressa Toia. Quanto è durato l'intervento? L'intervento è durato intorno alle 5 ore, perché ricordo abbiamo iniziato intorno alle 5 e mezzo, già verso le 10 e mezzo eravamo… Siamo partiti da una mano che non aveva più nessuna… Siamo partiti dall'idea che avevano i genitori che la mano sarebbe stata amputata, perché appunto si vedeva una poltiglia di carne, perché le bombe, questo tipo di esplosivi, oltre a lacerare la cute, i muscoli sottostanti a rompere le ossa, ustionano i tessuti, perché c'è il calore generato dalla fiamma, è una bomba, quindi oltre ai tessuti lacerati, strappati, dobbiamo fare i conti con i tessuti ustionati che sono morti, quindi l'intervento è stato veramente pesante perché si doveva rimettere a posto tutte le ossa fratturate, siamo riusciti a salvare mezzo pollice, l'indice è completamente saltato, mezzo, medio e poi anulare e mignolo, quindi diciamo la funzione di pinza della mano, l'opposizione del pollice, se tutto va bene, se non intervengono complicanze, ma la prima medicazione che abbiamo fatto ieri è andata molto bene, il bambino è tranquillo, è stato molto coraggioso, ora vuole uscire, già mi chiede di uscire, invece dovrà stare ancora forse qualche giorno, il bambino lo terremo il meno possibile, poi verrà medicato ambulatoriamente e poi penso che seguiranno almeno due interventi per completare la ricostruzione, quindi quello che può, per fare capire quello che succede in pochi secondi, la vita viene completamente devastata perché nessuno di noi pensa a quello che significa vivere senza una mano o con una parte, ma è una vita veramente completamente stravolta. Diciamo che con tutta la buona volontà la mano funzionerà al 30%, avrà la funzione, è bambino, quindi questo magari lo può aiutare a imparare a fare delle cose anche con le tre dita che gli restano, è la mano sinistra e lui è destrimano, quindi io spero che avrà una vita normale, penso che alla fine spero che riusciremo però con tanta sofferenza da parte sua e anche da parte dei genitori. Cosa insegna questo? Cosa deve insegnare? Per l'annessima volta, per la milionesima volta, che lo diciamo sempre, noi lo scriviamo sempre, attenzione perché bisogna stare molto attenti a maneggiare queste, non è necessario fare tutte queste, avere queste bombe sempre più, alcune volte sembrano veramente delle esplosioni in mezzo alla città, dico che non è questo il modo di festeggiare, perché poi purtroppo i risultati sono drammatici, questo è quello che è… Bisogna fare capire che un attimo può assolutamente sconvolgere tutta la vita, cambiare l'indirizzo completamente alla vita, come temo che insomma sia avvenuto in questo caso. Non è questo il caso perché ancora ne stiamo parlando, dico nel senso che comunque dico… No, probabilmente. È vero che se ci sono ragazzini che fanno attività fisica, che fanno sport, che fanno cose, questa cosa sicuramente comporta poi un ripensare un po' a tutto, vengono tolte anche delle possibilità, delle opportunità. Sono attimi in cui le sciocchezze si pagano, le sciocchezze si pagano, è come chi beve la sera prima di guidare, sono quel tipo di sciocchezze che appunto basta un attimo. Ma perché viene detto, ridetto, ridetto, ridetto e poi a Palermo sì, questo è il caso più, ma a Catania ce ne sono stati altri casi di questo tipo. Dico, come mai? Sempre uno punta su queste cose, però non si comprende, non arrivano i messaggi, si sbaglia messaggio. Qual è il motivo? Probabilmente ci vuole, il discorso che avevamo un po' fatto già, ci vuole qualcosa un po' di forte, cioè scuotere un pochino qualcosa di veramente realistico che faccia capire che cosa può avvenire con queste stupidaggini, specialmente quando sono maneggiate male o quando in ogni caso sono maneggiate da ragazzini. E appunto io avevo anticipato un'idea che noi già avevamo avuto tempo fa, non l'abbiamo ancora messa in atto, però quest'anno sicuramente lo faremo, di fare una campagna di prevenzione nelle scuole dove appunto si spiega, specialmente perché spesso sono proprio i ragazzi nell'età della pre e dell'adolescenza, cioè io sempre bambini e ragazzini ho visto con le ferite peggiori della mia carriera. Diciamo che gli adulti forse stanno un po' più attenti. Forse gli adulti esatto stanno un pochino più attenti, se ne vedono anche, però nella mia esperienza la maggior parte sono stati proprio all'età dagli otto, perché il primo bimbo che vidi quando ero assistente a Catania aveva la mano pure spappolata, avevo otto anni, quindi dagli otto ai quindici, dici a sette anni. E poi sono quelli anche che magari raccolgono per strada, sono quelli che si vanno a comprare le cose più complicate, infatti diciamo secondo me quello che andrebbe fatto, sto cercando di organizzare qualcosa, a parte noi che cercheremo di spiegare in maniera anche abbastanza forte quelli che possono essere i danni, qual è il danno d'austione, qual è il trauma delle ossa, come il tessuto cicatriziale che cosa comporta, anche la guarigione che non è mai al 100%, è che è una guarigione lenta, complessa, è una guarigione complessa, diciamo anche il migliore risultato richiede mesi di trattamento, mesi di trattamento, mesi se non anni, e poi anche probabilmente farci aiutare da chi produce, da chi o dagli artificieri o dai vigili del fuoco, magari che possano dare qualche spiegazione anche loro sul pericolo, più che su come si maneggia sul pericolo, su quelle che si devono, che bisogna stare attenti a evitare, cioè io volevo cercare, pensavo di fare una cosa combinata per fare proprio un corso di educazione. Certo, bisognerebbe andare anche a monte, non vendere certe cose, questo è veramente una cosa, non si devono vendere cose che sono molto pericolose, i professionisti li devono usare, e anche tra i professionisti capitano. Certo, la cronaca ci insegna che anche nelle fabbriche, è un materiale assolutamente delicatissimo, che deve essere utilizzato con molta cura, e lo sappiamo ogni volta che succedono incidenti in questi posti si contano i morti di questo successo in Sicilia per un molto tempo fa. Esatto, noi per esempio quest'anno pure dicevamo, dovremmo fare dei corsi o delle pillole, per esempio perché la maggior parte delle ferite gravi della mano, noi abbiamo reimpiantato un pollice di nuovo questa notte, la maggior parte sono da flex, quindi evidentemente il flex messo nelle mani di un pensionato o di un bricolagista è estremamente pericoloso, estremamente pericoloso, la maggior parte sono diminuite, io parlo della mia casistica giusto come centro della Sicilia occidentale e dell'Italia meridionale, perché per esempio questo signore veniva da Reggio Calabria, questo che ha avuto reimpiantato il dito, nella nostra casistica sono un po' diminuite quelle che sono le ferite dei falegnami, che erano un classico di quando io ero più giovane e vedevo tutti i falegnami con le dita tagliate, probabilmente le macchine sono più sicure, hanno fatto dei corsi di formazione, io penso che siano le macchine un po' più protette e invece sono crescenti tutti quegli incidenti che capitano con i taglierba, soprattutto anche quando sono persone non specializzate, io ricordo appunto, ricordo di un avvocato che la domenica stava facendo praticamente questa operazione del tagliate e si è distrutto completamente le mani, ogni cosa bisogna saperla utilizzare, bisogna veramente spiegare come si utilizzano, o almeno magari spiegare le cose che non si devono fare assolutamente, magari pulire l'erba così, togliendola direttamente alle lame perché si rischia di lasciargli le dita. Staccarli dalla presa, quelle norme di sicurezza che devono dare i specialisti, magari non sono proprio io la persona. Perché sono due o tre secondi quelli che rovinano la computer. Sì, proprio fare delle pillole educative di questo genere. Quindi allora quest'anno girerete per le scuole, andrete in giro e farete queste cose. Per il Policlinico faremo questa, prenderete contatti per cercare di spiegare appunto ai ragazzini e cercare che magari il prossimo anno, il prossimo primo dell'anno non… Esatto, di avere zero incidenti, posso fare i nomi dell'equipo che ha fatto l'intervento? Certo, assolutamente, come no? Perché no? Sono il dottore Montesano, tra i chirurghi plastici sono il dottore Montesano, il dottore Rossi… Diamo anche i nomi di battesimo. Ok, giusto, giusto, giusto. Il dottore Luigi Montesano, il dottore Matteo Rossi, il dottore Pierfrancesco Pugliese, la dottoressa Vitalba Giacalona in equip. E poi diciamo i due anestesisti perché l'equipo chirurgica è fatta non soltanto dai chirurghi ma è una parte fondamentale. Per una mano, tutto per una mano, tutta questa gente che ruotava bene. Tutto per una mano perché ci sono innesti da prendere, ci sono diverse cose che si devono fare in punti diversi, quindi i due anestesisti, però il nome del battesimo non me lo ricordo bene, il dottore Papa e il dottoressa Galvo. Va bene, questi ci perdoneranno. Esatto, ci perdoneranno. Sicuramente. Allora, centro d'eccellenza, centro importante quindi per la mano sicuramente, ma questo centro del policlinico è anche importante per altri interventi, fate anche altro, molto altro ancora. Per esempio… Noi siamo un reparto di chirurgia plastica generale con una grossa scuola di specializzazione che accoglie ogni anno 10 specializzanti da tutte le parti d'Italia perché è una delle scuole più complete. Siamo insieme a Catania, noi siamo capofila e c'è anche l'Università di Catania che fa parte della scuola di specializzazione e ci occupiamo un po' di tutta la chirurgia plastica, dalla chirurgia del distretto testacollo e quindi i carcinomi del cavorale sono uno dei nostri must con ricostruzioni microchirurgiche avanzate e anche dal punto di vista tecnologico molto avanzate. Alla chirurgia degli arti inferiori, sempre traumi, osteomieliti, alla chirurgia dei pazienti con la mano spastica, della spasticità, anche questa è una cosa molto diciamo molto di nicchia, molto specialistica e siamo uno dei 5 centri più importanti e più grossi per la chirurgia dei pazienti transessuali, cioè sia la conversione del sesso da maschio a femmina o da femmina a maschio, sia gli interventi di conferma di genere. Gli interventi di conferma di genere sono gli interventi per esempio che prevedono la femminilizzazione del torace con mastoplastica additivo riduttiva e gli interventi di femminilizzazione del volto e siamo uno dei pochi centri in Italia che fa anche la trasformazione del sesso, la ricostruzione dell'apparato genitale da femmina a maschio, che è molto più complessa. E c'è molta richiesta di questi interventi? Sì, questi interventi purtroppo hanno delle lunghe liste d'attesa perché noi abbiamo un progetto che abbiamo iniziato con l'assessorato qualche anno fa che si chiama Tutto per tutela umanitaria dei pazienti transessuali e transgender in ambiente ospedaliero e quindi è un progetto proprio per l'accoglienza dall'inizio al completamento del percorso. Abbiamo avuto moltissime richieste da subito anche perché noi avevamo fatto un training a Ghent che è un centro più importante forse in Europa per questo tipo di chirurgia e quindi le liste d'attesa sono cresciute subito, poi abbiamo avuto i due anni di Covid, noi abbiamo iniziato nel 2013, quei due anni in cui non si è fatta chirurgia elettiva ci hanno un po' intasato le liste d'attesa anche di patologia diciamo più urgente. Sì, questo è un problema che riguarda non soltanto il vostro reparto ma un po' tutti i reparti. Un po' tutti, cioè si sono effettivamente accumulate delle… L'emergenza del Covid e quindi… Le ricostruzioni mammarie perché per esempio noi siamo, cioè la breast unit del policlinico, noi facciamo la parte di ricostruzione mammarie, facciamo sia ricostruzione con protesi, sia quella autologa, cioè utilizzando altre parti al corpo. Cioè è un centro di chirurgia plastica generale, per la mano abbiamo proprio un'unità semplice, il responsabile è il dottore Tripoli che non era l'altra sera presente, che è in ferie però diciamo. Questo è il gruppo, il gruppo mano. E quindi… Il melanoma è un altro grossissimo tenta del nostro lavoro. Quindi dico, fate appunto questi interventi per quanto riguarda appunto i pazienti si… E diceva appunto poco fa che c'è molta molta richiesta, ma molta richiesta cosa significa in numeri? Allora, la nostra lista d'attesa complessivamente è di 64 pazienti. Ma non vengono tutti siciliani, non sono tutti siciliani in numeri? No, assolutamente. Però nei 64, io penso che possiamo fare un 60-40%, 60 sono appunto la ricostruzione primaria dell'apparato genitale, non dell'apparato genitale, dei genitali esterni, non stressa male, solamente dei genitali esterni. L'altra parte invece sono o interventi di revisione, di interventi fatti in posti strani, oppure interventi di appunto di conferma di genere. E quanto dura un intervento? Perché mi diceva che ne fate pochi al mese perché sono molto complessi. No, non riusciamo, perché siamo un reparto di oncologia e traumatologia, quindi siamo continuamente interrotti dal tumore grave o dal trauma. Un intervento di trasformazione di sesso F2M, cioè femmina-maschio, dura moltissimo, dura tipo 8 ore e così, uno invece maschio-femmina dura 5-6 ore. 5-6 ore. 5-6 ore. Allora, come vedete a Palermo diciamo c'è tanto di buono, si fanno tanti interventi, tanti interventi chirurgici molto specialistici, non c'è bisogno di andare fuori, dico questo almeno per quanto riguarda la chirurgia plastica. Sono veramente poche le cose, per cui... Esatto, dicono c'è bisogno di andare fuori perché appunto c'è questo centro, diciamo, importante. Dico per me, che faccio cronaca, devo dire che è stata una scoperta, spero che anche per i nostri telespettatori appunto lo sia una cosa piacevole perché appunto diamo delle informazioni ogni tanto su questa vituperata terra, diciamo, le informazioni che sono persone che comunque lavorano e cercano di portare. E fin dall'inizio è stato il mio obiettivo quello di invertire il trend, di fare in modo che le persone dal nord vengano a operarsi qua. Ho capito. E piano piano su qualche cosa ci stiamo riuscendo. Bene. E allora, aspettando appunto questa campagna diciamo di sensibilizzazione che noi seguiremo, dico ormai abbiamo iniziato questo rapporto, e quindi cercheremo anche di fare, anche sulle pagine di Blog Sicilia, cercheremo appunto di fare una buona pubblicità, di darvi un sostegno in questa azione perché mi sembra appunto molto molto importante. Sì, possiamo organizzare delle cose di prevenzione. Delle cose di prevenzione, sì sì sì, possiamo fare questo, è uno spazio che noi possiamo tranquillamente utilizzare per cercare appunto di veicolare dei messaggi positivi. Quindi è importante farlo, soprattutto se si tratta, se abbiamo davanti dei bambini, perché dico siamo genitori, quindi sappiamo benissimo qual è l'apprezzione davanti a questi fenomeni che sono veramente terribili, perché non è possibile che in un giorno di festa si trasformi in questo modo per un fatto del genere. Noi siamo tutti vicini a questo ragazzino, ci speriamo appunto che la sua vita torni diciamo ad essere attorno ai tempi. Sì, sarà normale, bellissima. Mi diceva che era un ragazzino bello svisto, fortissimo. Fortissimo, fortissimo, coraggiosissimo. Svendissimo, coraggiosissimo. Bene, allora noi ti fiamo tutti per lui, qui a Blog Sicilia. Allora io ringrazio davvero Adriana Cordoba, come vedete abbiamo parlato di tantissimi argomenti, primari del Policlinico e Chirurgia Plastica, ci ha parlato appunto di questi reparti che fanno tantissimo e tanti interventi. Io davvero vi auguro una buona giornata, ringrazio di nuovo davvero Adriana Cordoba e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.